Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Al momento non c'è alcuna certezza, ma hanno passato una notte insieme Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Al momento non c'è alcuna conferma a riguardo Ma su una cosa non vi è alcun dubbio, i due hanno passato una notte insieme e chi, il settimanale di Alfonso Signorini, ne fornisce le prove Belen e Stefano insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero passato una notte insieme, almeno questo è quello che dice il settimanale Chi Ormai restano pochi dubbi sul loro ritorno di fiamma. Alle indiscrezioni trapelate finora, infatti, si aggiunge un altro dettaglio di non poco conto, De Martino è stato paparazzato mentre entrava a casa di Belen, con tanto di borsone, lo scorso sabato pomeriggio E sapete quando ha lasciato l'appartamento? L'indomani mattina Se tanto mi dà tanto. Tuttavia, il weekend scorso non è stato proprio facile per Belen, la bella showgirl, infatti, è rimasta bloccata a casa per via della Fembre, tanto che è stata costretta ad annullare la partecipazione a Sanremo Young in cui riveste il ruolo di giurata De Martino sarebbe quindi corso a casa della Rodriguez per prendersi cura di lei e del figlio Santiago Stefano parla di Belen Stefano De Martino, domenica scorsa, è stato ospite di Domenica in per parlare di Made in Sud, programma di cui a breve sarà conduttore Mara Venier non ha perso tempo per chiedere in che rapporti sia con la ex moglie Queste le parole di Stefano, insomma, Stefano non conferma il presunto ritorno di fiamma con Belen Ma una cosa è certa, quando l'argentina era ancora fidanzata con Iannone, non è mai stata fotografata in atteggiamenti intimi con De Martino Il loro rapporto è sempre stato così intimo? Noi crediamo proprio di no E chi lo sa che tra poco non arrivi la conferma del loro amore riprovato Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao